Ben! Ma dove credete di sta? Chi è? Chi è sto ma? Sono il principe Ascanio Gavallini Gaetani, assistente al Soglio Potificio, c'ho due papi comantanati e sono il padrone di casa. Piuttosto mi domando, ma che cazzo siete voi? Italiani brava gente E vedi un po' che pago pure l'età, sai che faccio? Lavoro, sgobbo, sudo, penso... Ma da che? Con me non passano! Grandi lavoratori Noi siamo qua per fornire i servizi legati al magico mondo della domotica A domotica Ma non la che? Chi dici? Chi dici? Tutti casa e famiglia Si chiama Svetlana Paccato che tu ho pagato in anticipo e secondo me io moro prima Pronti a mettersi in gioco Fatemi, sei mesi fa mentre allo stadio Pentecoti la Fiorentina vinceva e io Gio Ivo, tu in camera d'albergo facevi la maiala e Gio Ivo il veronese Gio Ivo, Gio Ivo è stata una cosina, una cosetta, cucciolo, una cosina E la politica? Se io finisco a pagioneare, qua viene fuori i lavoraggini di... Assunzo, sono Leonardo Ma che cazzo... Che cazzo... La comedia musicale americana, i gatti Nord o Sud E questa cos'è? Come cos'è? Dai, ciao, tira però la grana, terrona, dai, dai Terrona a me, che sono volontaria delle ronde di quartiere e faccio le vacanze solo a fonze di legno Ma figurezze Avete voluto la democrazia? E mo' vabbi a prender cumo Non è importante chi sei? Lo chiede alla sua seguitare se soffrocio Ma pure questa, Cenzino Che c'hai a posto dei vecchi? Tu paramo O cosa fai? Luigi! Marisa! Chi è questa verticona? Chi è? Mia figlia L'importante è che sia C'è soffro Due c'è tronche che vogliono vendere il cellulare che accende il foglio Puoi interessare? Che cazzo stai dicendo? Una buona giornata Quando torna a cazzo la temperatura della sauna è come il tuo piede A che? Quando torna a cazzo, vaffanculo, dammi il cioccolatino, vaffanculo Dal 30 marzo al cinema Qui da papà sono passati i più grandi nel mio spettacolo Abagano, Zaza Gabor, Laurent Bacall, Murphy Carolle Questi sono i maridozzi